Si è concluso con grande successo di critica e di pubblico, il Festival Internazionale delle Arti QUIA edizione 2023, presentato a Palazzo dei Principi Ruspoli nella cornice dell'Eitrusca città di Cerveteri in provincia di Roma. QUIA non solo ripresenta questo appuntamento annuale atteso, ma apre anche la stagione degli eventi dedicati a Italo Calvino nel centenario della nascita. Tante le opere in mostra sia in presenza che esposte in virtuale, per oltre 60 artisti provenienti da tutta Italia e dall'estero. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.